Come si potrebbe fermare un attacco a Bitcoin? Ci sono alcune cose che la comunità potrebbe fare per fermare un attacco e salvare Bitcoin. Inizialmente potrebbero richiedere ai minatori di includere le transazioni in ogni blocco, cui l'attaccante potrebbe rispondere aggiungendo transazioni senza senso tra i Bitcoin scambiati. In casi più gravi, gli risolupatori di Bitcoin potrebbero cambiare drasticamente l'algoritmo di proof of work di Bitcoin, rendendo inutili i miner Bitcoin degli attaccanti e di chiunque altro. Altri minatori prenderebbero rapidamente il posto degli altri appena usciti e sarebbero necessari ulteriori investimenti per mantenere l'attacco in corso.